In diretta con le notizie di Rai News 24. La CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, ha promosso un sondaggio sull'Europa tra i suoi iscritti. Il giudizio che ne è uscito sull'Europa è positivo. Nonostante, lo sappiamo, il rapporto tra Europa e Italia non sia sempre facile, nonostante le critiche alla cosiddetta Europa dei tecnocrati, le piccole imprese del nemico lo hanno individuato invece in casa e sarebbe proprio l'Italia. Allora, ne parliamo con un ospite in studio a cui do il buongiorno, Giuseppe Oliviero, benvenuto, vicepresidente della CNA con delega alle politiche comunitarie. Quindi, il nemico è in casa, l'Europa semmai ci può aiutare? L'Europa è vista come una via di sviluppo e di sbocco per le nostre imprese. Il fatto curioso, contrariamente a quello che poteva essere l'idea nell'immagine collettiva, è che le imprese del sud credono il più nell'Europa. C'è un dato, come dire, sostanziale supportato dalla nostra ricerca, è che le nostre imprese del sud comprendono che l'espansione dell'Europa è verso il Mediterraneo e avendo noi una posizione geografica di assoluto privilegio rispetto agli altri paesi diventerebbe un sistema di opportunità importante per noi. Quello che esce fuori è che invece viene percepito il sistema idale come sistema pesante. Allora, quali sono i principali problemi, i principali ostacoli che incontrano le piccole imprese nel nostro sistema, il sistema Italia? C'è il peso della fiscalità che è insostenibile. Noi avevamo preceduto a questo tipo di studio uno studio sulla fiscalità fatta per città. Tranne qualche eccellenza, noi superiamo abbondantemente il 70% di tassazione giunte fra quelle comunali, regionali e statali. A cui si somma la burocrazia? A cui si somma il grandissimo peso della burocrazia che è un costo vivo per le imprese. La burocrazia in questo paese è una delle voci che più abiliscono non solo le nuove imprese, ma anche le imprese che stanno già sul mercato da tempo. E sul giudizio positivo sull'Europa incidono anche i finanziamenti europei che poi noi italiani non sfruttiamo abbastanza? Non sfruttiamo abbastanza, sono comunque ancora percepiti come un sistema di opportunità e è del tutto evidente che in ambito dei progettuali europei e di finanziamenti europei in un momento di crisi così importante per le imprese più strutturate, questo è un tema che riguarda soprattutto le imprese più strutturate, che ci richiamo una parentesi, approfondiremo dopo, è un'opportunità reale. E' l'unico modo in una situazione come questa, con il mercato interno fermo, per intercettare risorse che vanno soprattutto indirizzate verso la ricerca e il potenziamento delle imprese. Il tema, la criticità sta nel fatto che il nostro mondo imprenditoriale, ancora troppo piccolo, riesce a progettare poco e male perché non riesce ad integrarsi in processi di aggregazione che ci possono consentire anche di costruire. E' di affare sistema. Quello è uno dei temi su cui dovremmo lavorare. Cosiddetti distretti, no? Distretti, economie di scala, filiere, un tema su cui credo si deve svolgere la maggior parte delle attività e dell'impegno delle associazioni come le nostre. Allora questo è il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, le piccole e medie imprese si aspettano qualche cambiamento anche su questo fronte. Una delle cose che esce dal sondaggio, che è particolare, è proprio questo. Il mondo dell'impresa e la piccola impresa italiana crede nell'Europa. Crede nell'Europa significa credere in un'Europa che diventi sempre più un soggetto politico, quindi una fiscalità comune, una politica fiscale dell'Europa, una politica, come dire, internazionale dell'Europa, tant'è che i trattati col Canada e gli Stati Uniti che sono anche quelli un sistema di grandi opportunità soprattutto per il nostro paese, pensate a Medinina, alle nostre produzioni di eccellenza. Quindi ci si aspetta tanto, si aspetta un'inversione di tendenza sul credito, anche qui è un tema fondamentale. È fondamentale, esatto. L'individuazione della figura, oltre al mister banca, che abbiamo individuato una figura politica che possa dare l'indirizzo per una nuova Europa. Un mister Europa, dopo Draghi, che ha visto un po' come il mister Euro. Senta, un'ultima domanda, perché è positivo anche il giudizio sull'Euro, anche la moneta unica europea non ha vita facile, sottoposta a numerose critiche, anche nel nostro paese. Invece le piccole e medie imprese hanno fiducia anche nell'Euro. Non sono cadute nel populismo, insomma. Certamente tornare alla lira per chi fa imprese in questo paese sa bene che sarebbe un atto di follia totale. Quindi si crede nell'Euro perché è moneta stabile, perché stabilizza i rapporti anche nell'internazionalizzazione, che è un tema su cui noi dovremmo, anche come sistema paese, investire molto di più. Noi abbiamo solo il 13% delle nostre imprese che riescono ad andare su mercati esteri. Per la potenzialità che esprimiamo e per le eccellenze e le produzioni che abbiamo, questo è un dato su cui molto si può fare. Certo, il dato positivo è che c'è un altro 83% che può crescere, e quindi ancora una volta ritorniamo alla politica italiana, la politica che dovrebbe incentivare i processi di accompagnamento delle imprese verso i mercati esteri. Quindi, insomma, più sostegno politico. Assolutamente. Ringraziamo allora Giuseppe Oliviero, vicepresidente della CNA. Grazie di essere stato nostro ospite. Grazie.